IoDonna è un sito web italiano che offre una vasta gamma di contenuti rivolti principalmente al pubblico femminile. Il sito copre diverse tematiche, tra cui moda, bellezza, cultura, benessere e news. Un punto di forza del sito è la sua vasta selezione di articoli che spaziano dagli argomenti più trendy a quelli più approfonditi e informativi. Inoltre, IoDonna offre una sezione dedicata alle interviste e alle storie di successo di donne di spicco, offrendo così una fonte di ispirazione e motivazione per il suo pubblico. Ulteriori considerazioni nell'info box di questo video.